Discutere del rapporto tra beni culturali affinché diventino sempre più motore di sviluppo economico e le industrie e le imprese di importanza strategica è fondamentale. E' questo il tema del 39esimo convegno di economia e politica industriale dal titolo Le nuove imprese per una nuova industria della cultura e dei beni culturali in corso a Palermo e che vedrà confrontarsi più di 100 professionisti del mondo universitario, della ricerca ed esperti provenienti da tutta Italia ed oltre 30 atenei. Tra le tematiche affrontate l'economia dei musei, dei siti archeologici, degli spettacoli dal vivo, dei teatri, degli antilirici, dei grandi eventi e del turismo culturale. Ad intervenire anche il sottosegretario ai beni culturali Francesca Barraccio e Romano Prodi, già presidente della Commissione Europea. Ho chiesto ai colleghi di economisti industriali d'Italia di svolgere quest'anno il 39esimo convegno annuale su un tema che è poco frequentato all'interno della professione di Commissione Industriale, quello della relazione affaculture e beni culturali e sviluppo economico. Chiederemo e sono sicuro che i colleghi daranno contributi importanti per comprendere le criticità di una strategia che prova da un lato a valorizzare i beni culturali, dall'altra parte non a farlo in astratto, ma provando a creare collegamenti a sé stretti con il sistema della produzione agricola, agroalimentare e industriale di queste regioni. La regione sta scommettendo su questo percorso di sviluppo perché lo ritiene quello che con maggiore efficacia, con maggiore tempestività può dare risposta alla domanda di lavoro, fa bisogno di crescita che tutta la comunità regionale esprime. La scelta di Palermo è una scelta importante perché in tema di rilancio del sud della nostra regione è importante puntare su quelli che oggi chiamiamo drivers e uno di questi drivers può essere sicuramente il settore della cultura, purché si riesca a passare dalla fase della valorizzazione del bene alla fase dell'utilizzazione a fini anche imprenditoriali per lo sviluppo di quella che si può chiamare una vera e propria industria culturale. Grazie